Con Marco Michelis a Celia, un evento, una manifestazione importante perché è dedicata al cibo senza glutine. Allora diciamo innanzitutto di cosa si tratta, cosa vuol dire senza glutine? Senza glutine è quella famiglia di prodotti che non hanno questa proteina e quindi è quel tipo di prodotto che è obbligatorio dover far mangiare a quelle persone che per un motivo o per l'altro sono intolleranti o allergiche a questo tipo di prodotto. Quindi farina di frumento è tutto quello che contiene glutine. Noi dopo tanti anni di produzione di pasta tradizionale, cosa che continuiamo a fare, ci è sembrata veramente l'evoluzione naturale, proprio perché la nostra filosofia è quella di essere vicino alla gente, quella della massima trasparenza, noi non utilizziamo semilavorati ma solo materie prime e quindi è stato veramente un cammino naturale quello di avvicinarci a questo tipo di prodotti perché vogliamo veramente che tutti abbiano la possibilità di mangiare della pasta, anche coloro i quali hanno questo tipo di problemi, genuina. E di conseguenza ci è sembrato veramente bello poterci mettere a produrre questo tipo di prodotto. Commercializziamo in realtà dei prodotti usegetta, delle stoviglie usegetta, fatte con biopolimeri e prodotti di origine vegetale ecosostenibili e da fonti rinnovabili in qualche modo. Il Matervia è un biopolimero, direi il miglior biopolimero che oggi esiste al mondo, è un vanto della ricerca italiana, è un biopolimero nato come base all'amido di mais. Con questo materiale noi facciamo le posate e il rivestimento dei bicchieri in cartoncino che servono soprattutto per le bevande calde. Il biopolimero da qualche anno è uscito con i prodotti freschi, come pane, pizza e focaccia. Ci stiamo lavorando da qualche anno, il pane è già da tempo che sul mercato, oggi facciamo pizza e focaccia, nel caso non ce li ha, quindi prodotti freschi, senza glutine, per tollerare il cilice. Allora normalmente in una famiglia dove c'è una persona o due intolleranti, la famiglia è costretta a mangiare tutto allo stesso modo, quindi si mangia senza glutine, perché sennò diventerebbe veramente problematico. Noi abbiamo fatto dei prodotti che piacciono sia a quelli che non possono mangiare glutine che a quelli che possono, cioè il nostro messaggio è proprio questo, può mangiare tutta la famiglia.